Ciao belli, sono J-Ax e sono tornati i miei due centesimi. Oggi volevo parlarvi di politicamente scorretto. Una volta politicamente scorretto voleva dire avere un'opinione che andava contro tutti. Oggi politicamente scorretto significa essere paraculi. Essere veramente politicamente scorretti oggi significa aiutare chi non ha potere o rilevanza mediatica. E invece i nostri politici preferiscono far passare come opinioni temerarie quelle contro i bambini di seconda generazione nati in Italia che così si ritrovano ad essere cittadini di serie C. Davvero? Davvero è così temerario dire cose tipo l'Italia deve rimanere bianca e parlare di purezza del sangue o stronzate simili? Intanto a chi si esprime così piovono sui social migliaia di like e a quanto pare anche milioni di voti. Andare contro lo Jussoli, e oggi tutti i politici sono contro lo Jussoli, è ufficialmente da politicamente paraculi. C'è solo da guadagnare. Tutto questo mentre i politici e partiti continuano a essere condannati per corruzione e collusione con l'andrangheta e le mafie. Mentre scopriamo di decine di milioni di euro che continuamente vengono sottratte alle nostre tasse, loro ci buttano addosso questo fumo perché tanto la guerra tra i poveri è quella che conviene a loro per mantenere il potere. Quindi votate pure contro lo Jussoli, tanto da noi i bambini italiani hanno già deciso che i loro compagni di classe sono tali e quali a loro. Almeno però risparmiatemi la retorica del politicamente scorretto perché per quanto mi riguarda siete solo politicamente corrotti. E a quelli che mi dicono ma tu sei un privilegiato, sei un cantante, pensa a cantare, io rispondo sto cazzo, pago tantissime tasse e se voglio esprimere la mia opinione su come dovrebbe evolversi il mio paese, lo faccio e come. E non è certo buon marketing, lo dimostra il fatto che tutti gli artisti sulla carta sono contro il razzismo e vogliono un'Italia aperta, però su certi argomenti stanno muti perché sennò si perde pubblico così. Se poi tu mi vuoi togliere il like perché credi alla purezza del sangue, a un'Italia che deve rimanere bianca, sono felicissimo di perdere il tuo like, testa di cazzo, e vaffanculo. Ti piace questo come è politicamente scorretto? Ciao, vi voglio bene.